cari amici nuova puntata di city report municipio 9 siamo nell'area dove più green che di milano nell'anno 2014 un'area costata 10 milioni e 400 mila euro di soldi pubblici ministero comune regione sono venuti tutti qui albertini formigoni dovevamo essere i primi in europa eccetera quella guardate come siamo ridotti ve la dico già io ma lo vedrete tra poco questa è l'unica porta chiusa in maniera salda perché come potete vedere nuova puntata di city report purtroppo un nuovo degrado il nuovo 3 che segnaliamo fermo con le quattro frecce dal 2017 con paolo rusconi alla camera luglio trapasso city report andiamo cavalletto si chiusura no immondizia ritirata no puzza schifo come degradare un'aria questo è un degrado quasi legalizzato perché essendo in capo comunque al pubblico se viene lasciato così e in tutti questi anni siamo nel 2022 quindi facciamo che siano cinque anni vogliamo fare quattro se in quattro anni non si ha la capacità di riattrezzare il tutto per renderlo fruibile cittadini civile decoroso e purtroppo vi anticipo già subito che abbiamo anche qualche persona che dorme dentro e sono quelli che vi vengono a consegnare i panini a casa i rider sulla sinistra dove avete visto il cartello c'era l'aria posteggio e vendita dell'idrogeno il cartello ci indica dove siamo via boschi di stefano questa è l'uscita sul retro noi siamo entrati da via de marchi ma ci sono altri ingressi ed eccola qui la cattedrale del deserto cioè lì dove l'idrogeno doveva essere prodotto stoccato eccetera chiusa dall'anno 2017 soldi pubblici come vi abbiamo detto prima ma chiaramente vicino una zona di degrado che cosa possiamo trovare alto degrado una bella bottiglia di urina perché la zona di notte e ve lo posso assicurare perché siamo venuti diverse volte a fare dei sopralluoghi perché non ci capita tra virgolette nulla di particolare perché noi visioniamo bene le situazioni non ci buttiamo a pesce perché la cosa più sbagliata da fare siamo qui a monitorare il territorio insieme a paolo rusconi agli altri ragazzi da city report non siamo qui né per fare i giustizieri e né per dare soddisfazioni a quello o a quell'altro padrone o padrino siamo qui per far vedere a voi cittadini milanesi italiani chi vuol vederci quello che accade nella città che ospiterà le olimpiadi invernali guardate che bella struttura tutta graffitata abbandonata invernali guardate che bella struttura tutta graffitata cari amici volevo fare un test questa è la famosa struttura dell'idrogeno chiusa c'è una telecamera c'è un citofono proviamo a citofonare vediamo se ci risponde qualcuno c'è un videocitofono c'è qualcuno siamo di city report tu li ho trapasso non si accende neanche la luce però si sente suonare dall'interno totalmente abbandonata chissà se state la camera sarà funzionante vi aggiungo due ultime cose che dobbiamo aggiungere della situazione che abbiamo visto da questa parte voi vedete dei tappi di birra per terra perché sapete cosa accade in questa parte del marciapiede la sera visto che tutti abbandonato che la sera qui si piazza un furgone di quelli bar eccetera distribuisce le bibite perché d'altronde questa zona è totalmente abbandonata guarda anche le fascette di di plastica messe lì sopra quelle strisce di plastica ok proseguiamo finiamo il giro perimetrale vi faccio vedere anche dove si piazza il chiosco che comunque fra le tante cose forse il male minore di questo posto si farebbe prima fare un barra chiuso in regola però vabbè questo è tutto guardate la crescita delle piante qua guarda secondo te quanto tempo è che non entra qualcuno qua o dici che le hanno incollate ah no il green questo è il green di milano abbiamo la milano green dopo il bosco verticale il trash orizzontale verticale omnicomprensivo ecco questa parte qui è quella che vedete diciamo un attimino più pulita perché la sera ci si mette su un furgone bar che distribuisce bibite e panini rimane qualche panino in giro però se vedete rispetto a tutto il resto è conciato un po meglio ma sono gli unici che stanno utilizzando questo angolo qui di questo spazio dell'aria a idrogeno tecno city bicocca addirittura è scolorito anche il cartello del divieto di sosta guarda anche mezzo staccato stiamo a vedere guarda stiamo finendo l'angolare vi abbiamo fatto vedere questa è via pirelli questo lato vedo che c'è anche qualche cantiere in corso qua è fibra boh non si sa guardate comunque una cosa anche la pavimentazione riesce a riprendere la pavimentazione guarda com'è tutta conciata continuiamo a seguire il perimetrale di questa re che già da fuori ci riserva un tanf un odore che non vi racconto troviamo però un altro lucchetto dai tra un'apertura e l'altra perché noi stiamo scegliendo quale apertura fare c'è anche un altro lucchetto è così strano però sai che cosa che dall'aria lucchettata è qua guarda dove è il lucchetto ma dici che nessuno ha notato la vogliamo chiamare discrepanza per essere gentili la mancanza come vogliamo chiamarla cioè questo le messe sicurezza eccetera va bene continuiamo dai non ho parole siamo vicini a natale non ho parole mi trattengo pieno di ingressi ne stiamo cercando uno un po più agevole più comodo eccetera questo l'albero è fuori quindi non è neanche dentro nessuno che passa a tirarlo su guardate che schifo che c'è i nostri studenti le persone che abitano in questa zona passano da questa da questo angolo di città che è è più simile a una bidonville di dei peggiori quartieri sudamericani guardate qua anche qua fuori guardate qua fuori l'unica cosa che potrebbe sembrare positivo di sta situazione è la natura che comunque nonostante l'uomo sia così il green viene fuori da solo guardate quante piante qua non curate che vengono fuori tra l'altro fate così lasciate così servono solo a coprire in parte lo squallore che c'è all'interno io ho già visitato l'interno tra un po' lo vedrete anche voi dove vi ricordo ci sono anche dei rider che dormono qui in questo momento sono fuori stiamo registrando siamo circa mezzogiorno in questo momento sono fuori a portarvi l'hamburger le patatine e il sushi a casa poi appoggiata la bicicletta elettrica del comune recuperata chissà dove il loro zaino in condizioni igieniche diciamo pessime vengono a dormire in una tenda in questo spazio ecologico dell'aria idrogeno ditemi voi se io non devo dire qualcosa su tutta sta situazione non è l'esa maestà dire far sapere alle persone che ci sono delle situazioni che non vanno però purtroppo molte volte i politici se la prendono a male perché comunque il consenso va sempre tutto bene maggioranza opposizione poco cambia il sistema è sempre quello guarda anche da qui già si vede un po della porcheria che c'è all'interno sai che ti dico che mi sa che ne facciamo due facciamo gasometro e posteggio gasometro che dici facciamone due se è sempre nel perimetrale vediamo che qualcuno si è già arrabbiato e ha fatto una scritta morale con scritto orcolo schifo istituzione pure quindi è porcolo schifo l'istituzione pure è un'opinione di qualcuno che ha scritto qui noi non diciamo niente andiamo paolo Sì Di Rapport!